Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale, sono Mariano, oggi vi voglio parlare dell'ultimo mio acquisto, eccolo qui, lo noterete, sono passato dall'Apple Watch 1, unissimo, il primo che è stato fatto, all'ultimo, Apple Watch Ultra 2, oh mamma mia, vabbè, sì, diciamo mi sono tolto un rene e ho acquistato questo oggetto qui, perché ci voglio fare un video, perché siccome sono un, non solo produco contenuti su YouTube, ma ne sono anche fruitore, e quindi ho voluto vedere i vari YouTuber, italiani e non, come trattano l'argomento Apple Watch Ultra, siccome il mio 1, diciamo, non faceva praticamente quasi più nulla, se non mostrarmi l'ora, ho voluto vedere, e non lo aggiornavo ormai da tempo, perché sapete no, che ci sono le varie scadenze, quindi Apple non mi dava più l'opportunità di aggiornarlo, volevo vedere insomma tutte le cose che facesse questo oggetto meraviglioso, ma sui video che ci sono in rete, ho fatto fatica a trovare un video che dicesse le cose base, cioè come si usa base, tutti che fanno video, trucchi, segreti, le cose che nessuno ti ha mai detto, sì ma le cose semplici, chi me le dice? E quindi ho deciso di fare questo video per tutti coloro che, come me, vogliono partire, diciamo, da zero, quindi se l'hai appena acquistato, se pensi di acquistarlo, guarda questo video perché magari ti potrà essere utile per vedere le cose, diciamo, basilari, poi è chiaro che ti darò anche nel video che sto facendo, ti darò delle cose un po', ecco, nascoste, che magari a qualcuno potrebbero sfruggire, ma in realtà questo è un video proprio così, per principianti, per coloro che lo utilizzano per le prime volte, ma è chiaro, come ti dicevo, guarda, ci sono due o tre cose che non ho visto detto da nessuno, quindi seguimi fino alla fine, iscriviti al mio canale perché vedi ogni tanto, no, anche io mi rinnovo, questi sono tutti gli altri miei social, ti aspetto su Tele, io ti do tante offerte a settimana, guarda, ti metto anche il link sponsorizzato di questo, te lo dico, ovviamente questo non è un video sponsorizzato, sicuramente se Apple pensa a Mariano Pierantozzi, questo è un video proprio autoprodotto, però ti metto magari il link sponsorizzato, poi se te lo vuoi acquistare cliccando sul mio link, dai, insomma, qualche euro mi arriva, partiamo subito. Iniziamo dall'esplorazione esterna, guardiamolo qui sulla sinistra, guardate come abbiamo questi due microfoni e qui invece abbiamo l'altoparlante e qui il discusso tasto funzione, di cui poi parliamo fra un attimo quando parleremo di tasti. Se lo giriamo dall'altra parte, invece vediamo la famosa Digital Crown, il tasto funzione principale, poi abbiamo un tasto laterale e abbiamo ben tre microfoni. Ecco, la prima cosa che ti dico è che veramente questo può essere utilizzato al posto del telefono, e cioè quando riceviamo delle chiamate si sente e puoi parlare veramente in maniera fantastica. Con quello che avevo prima, guarda te lo faccio anche rivedere, l'avete visto magari chi mi segue tante volte, con lui non potevo assolutamente parlare, cioè insomma chi stava dall'altra parte non mi sentiva, io non sentivo bene eccetera, con questo guarda te lo puoi davvero scordare il telefono e quindi molto molto assolutamente pregevole da questo punto di vista. Andiamo avanti nell'esplorazione. Ti voglio far vedere immediatamente come si tolgono i cinturini. Perché? Perché te lo voglio far vedere perché sui cinturini c'è proprio una letteratura, cioè vuol dire che tantissimi acquistano cinturini di ricambio, anche io l'ho fatto, mi debbono arrivare, poi quando mi arrivano magari ti dico dove l'ho presi, quanto l'ho pagati. Per toglierli, guardate, basta, ci sono queste linguette, basta che tu lo tiri qui e poi lo fai sfilare. Eccolo qui, vedete, si sfila in questo modo qui. E poi quando lo devi rimettere, vabbè adesso lo sfiliamo, lo devi rimettere, e basta portarlo qui e lo fai andare fino a quando non senti un click, che vuol dire che tutto è a posto, ecco, come in questo caso qui. Andiamo sul display. Arriva già con quello che viene chiamato l'always on, e cioè è sempre acceso. Guardate, invece io l'ho cambiato. Poi ti faccio vedere immediatamente come cambiare questa cosa. Vedete che si spegne dopo un po'. Per riattivarlo basta o premere al centro o di lato, insomma, dove vuoi, sullo schermo, per spegnerlo basta fare così, oppure basta premere uno dei tasti. Vedete, ad esempio, ho premuto quello, adesso lo rispengo, ecco, così, lo spengo, posso premere anche questo e vedete come torna, diciamo, normale. Inoltre, se ce lo hai al polso ed è spento, vedete, in questo caso è spento, come lo alzi, quando ce l'hai al polso, vedi come torna normale, come in questo caso. Ora ti faccio vedere immediatamente sulle impostazioni come togliere l'always on, e cioè il sempre. Vedete, ho premuto la digital crown, qui ho le impostazioni, vado, 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 fino a schermo e luminosità. Innanzitutto, guardate, per persone come me, la dimensione del testo io l'ho aumentata. Puoi anche mettere in grassetto e vedete come c'è, sempre attivo. Io ho messo no, non sempre attivo, anche perché così la batteria dura di più. Parliamo anche della batteria. Quanto dura la batteria? Uno dei gravissimi problemi di questi orologi qui, soprattutto questi della Apple, è che le batterie durano davvero poco. L'altro, io ero abituato a ricaricarlo ogni notte, anzi, a volte non si capiva bene il perché, anche verso le otto e mezza, nove di sera, già era morto. Con questo ci faccio più di due giorni always on. Quindi, anche perché lui ha il monitoraggio del sonno, quindi, se ad esempio sei interessato anche ad altri video, scrivilo qui nei commenti e te ne farò tanti, perché sto scoprendo davvero grossissime novità che ci sono e tantissime cose che può fare, anche sulla parte del sonno. Quindi, se sei interessato, poi lo vediamo. Però, questo lo puoi portare anche di notte. E proprio per quanto riguarda la notte, ti voglio parlare di questa novità dell'Ultra 2, e cioè i quadranti. Come si personalizzano i quadranti? Basta premere a fondo e vedete che hai qui il tasto Modifica. Vado su Modifica e poi, qui posso modificare le complicazioni. Le complicazioni sono questi piccoli programmini che ci permettono di mostrare informazioni aggiuntive, come il tempo, i promemoria, l'attività fisica e tanto, tanto altro ancora. Ecco, si è spento. Vado su Modifica. Ad esempio, se voglio cambiare, non so, questa la temperatura, voglio mettere l'indice UV oppure il vento, lo posso fare, oppure posso mettere ancora tantissime, anche altre cose come i messaggi, Mindful, monitoraggio ciclo, musica, orario, ore, eccetera, eccetera. Quindi lo puoi personalizzare come vuoi. Ma attenzione, se fai swipe verso sinistra o verso destra, ad esempio, puoi decidere il colore. Ecco, in questo caso, vedete come passa tutto arancio. Oppure io lascio multicolore. Ma attenzione, perché per due quadranti in particolare, cioè questo qui, che è il nuovo dell'Ultra 2, e Wifinder, hanno inserito anche la modalità notte. Vedete? Modalità notte, che in questo caso è automatica. E guardate come la modalità notte è una modalità rossa. Questo significa che, adesso io se voglio mettere no, vuol dire che la modalità notte non entra in funzione. Se la metto su sì, vuol dire che sto in modalità notte. Io lo metto automatica in modo che, quando è scuro, passa in modalità notte. Adesso te la faccio vedere, vedete? Ed è, vedete come è, adesso sta passando da l'una all'altra, perché come, guardate, adesso te lo faccio vedere, è come vede poca luce, vedi come passa in modalità notte. Ti voglio dire una cosa, cioè se lo tieni sotto alla camicia, ovviamente ti passa in modalità notte. Ti voglio anche dire un'ultima cosa, e cioè che la modalità notte non è personalizzabile nei colori, cioè rimane sempre rossa, e quindi nei colori ci dobbiamo tenere in rosso. Insomma, magari prossimamente potremo anche modificare la modalità notte. Quindi queste due cose, sotto la camicia ti ridiventa rossa, e il fatto che è sempre rossa. Come faccio ad andare sulle applicazioni? Basta premere la Digital Crown. Vedete, premo qui e vado su tutte le applicazioni. Le applicazioni, tra l'altro, le puoi vedere o in questo modo, oppure tutte di fila, così, in elenco, in questo modo, oppure le puoi vedere così. Tra l'altro, questo si può anche muovere, il display, ma io lo preferisco così. E passiamo ai vari tasti funzione, perché questi sono molto, molto importanti. E qui ti faccio vedere alcune cose che ecco, ho faticato a trovare anche da altri. Anzi, guarda, prima di farti vedere queste cose, ti voglio far vedere i vari swipe. Se fai lo swipe verso il basso, vedi tutte le tue notifiche. E qui ci sono tutte le notifiche, e poi puoi anche cancellarle. Se invece lo fai dal basso verso l'alto, vedi che hai il centro di controllo. Il centro di controllo ti tiene l'orario, la data, ed altre applicazioni, diciamo, preferite. Ecco, diciamo così. E guarda che questo lo puoi modificare, questo non l'ho visto dire da nessuno. E cioè, ad esempio, se io non voglio qui le calorie, eccetera, basta premerci, e vedete come tu, lì puoi togliere questi widget qui, oppure aggiungercene altri. Quindi, è un modo veloce per entrare nelle tue applicazioni preferite. Ecco, diciamo così, io già l'ho personalizzato questo. Vedete, insomma, come ci sono alcune cose. Ora passiamo, come ti dicevo, ai vari tasti. Beh, il tasto principe è lui, la Digital Crown. La premo una volta e vedo le applicazioni, e l'abbiamo detto. Se invece ruoto, guardate come ritorno in quello che è il centro di controllo. E quindi, abbiamo visto già due modi per entrarci. Se la premi due volte, entri nelle ultime applicazioni. Lo vedi? Queste sono le ultime applicazioni, applicazioni aperte. Se invece la tieni premuta, vai direttamente dentro Siri. E Siri adesso si sta attivando. Andiamo invece al tasto laterale. Premendo il pulsante laterale, ci troviamo di fronte a tutte le varie personalizzazioni. Allora, posso togliere il Wi-Fi, posso togliere la rete, posso trovare il mio iPhone, la batteria residua, posso mettere la modalità teatro, togliere, insomma, tantissime altre cose. La cosa molto molto importante è che se ad esempio metto il non disturbare, guardate come mi passa il non disturbare su tutti i miei dispositivi. Ad esempio, se io lo attivo per un'ora, ho il non disturbare attivo per un'ora e me ne accorgo perché vedete come ho la luna qui. Questo vuol dire il non disturbare. Io ad esempio attivo il non disturbare la notte e lo attivo fino alla giornata successiva. Così non ho nessun disturbo durante la notte, nessuna notifica neanche sul mio orologio e non ce l'ho nemmeno di là. Guardate che se voi personalizzate bene il non disturbare, questo vuol dire che ad esempio potete far squillare comunque i vostri preferiti e far squillare comunque le persone che vi telefonano almeno due volte consecutive. Quindi, insomma, personalizzatela molto bene. Nota bene se tieni premuto entri nella modalità sicurezza e quindi puoi attivare la sirena, la cartella clinica torna sui miei passi o le chiamate di emergenza che possono essere personalizzate. Oppure, se premi due volte, ecco, guardate come entri nel wallet e quindi entri nel lettore con cui poi tu puoi pagare le tue transazioni. E passiamo al discusso tasto azione. che è questo. Guardate, io adesso lo premo e vedete come a me mi avvia immediatamente il cronometro perché ho messo che il tasto azione va sul cronometro. Quindi, ad esempio, posso poi toglierlo e così via. Come faccio a personalizzarlo? Per personalizzare il tasto azione basta che vado sulla digital crown, vado sulle impostazioni e aspetta che stavo ancora su schermo e luminosità e guardate come ho il tasto azione. Qui puoi dire che cosa vuoi fare cioè l'allenamento, il cronometro, waypoint, torna sui miei passi, l'illuminazione, la torcia, molto bello se ad esempio vuoi la torcia basta premere lì e entri dentro la torcia. Tra l'altro ti voglio far vedere poi la torcia una cosa particolare. vediamo se mi ricordo anzi mettiamola subito guarda mettiamo il tasto azione mettiamo la torcia così ti faccio vedere questa cosa particolare. Adesso torno qui vado sulla torcia e guardate come la torcia può essere così di questo colore molto forte oppure può lampeggiare oppure può essere rossa. Il rosso ad esempio se sei al cinema potresti attivare il rosso ecco adesso tu lo vedi un po' magari non tanto rosso però potresti attivare questa opzione qui per dar meno fastidio agli altri. Ora perché dico croce e delizia questo tasto azione? Perché? Vabbè adesso gli piace alla Apple il tasto azione l'hanno messo anche sui nuovi dispositivi. Perché? Perché in realtà il tasto azione quando poi tu ti sistemi il tuo Apple Watch magari lo tiri un po' più su lo tiri un po' più giù e beh ogni tanto ci vai a sbattere con il tasto azione e quindi fate ben attenzione ad esempio io non ci metto inizia l'attività perché non voglio poi che le varie attività le vada a interrompere e quindi magari mi viene un'attività e non volevo farcela andare. un widget che ti consiglio che ho visto che è veramente molto utile è quello delle stazioni e cioè ti può dire non solo quanto dista la stazione più vicina a dove tu sei ma anche quali sono i treni in partenza. Veramente fantastico. Benissimo. Guarda io ho fatto questo video velocissimo per tutti coloro che acquistano o che vogliono acquistare e vogliono capire alcune cose sul loro Apple Watch Ultra senza ma tra l'altro anche per tutti gli altri Apple Watch anche perché ti ho fatto vedere molte cose che sono sul ultimo sistema operativo della Apple. Quindi niente trucchi niente segreti ma come si usa? semplicemente. Spero davvero che questo video ti sia piaciuto lasciami qui nei commenti se lo vuoi acquistare ecco clicca qui ti aspetto tutti gli altri miei social in particolare su Telegram dove ho tante tante offerte a settimana. Dimmi se vuoi altri video del genere e ora non mi resta che augurarti una vita splendida e ti saluto il mio ciao ciao grazie grazie infinite alla prossima Grazie a tutti